Alla premiazione rimanente perché avrete la possibilità di venire in giro di campo con gli atleti incoronati e vestiti di tutto un punto e poi ci sarà il Fistel Fannar di Urban Life insieme a queste ragazze qua Il nostro re, lui è il più saggio e lui ci indicherà la via lui ci indicherà dove poter portare i suoi soldi Paolo Ficosecco, il regno di Paolo IV Re Paolo, tributiamo il grande applauso per Re Paolo IV Ecco l'inchino da parte di Messere da fuori e dopo l'inchino del Messere arrivano le congratulazioni del sindaco Nicola Vaira del presidente del comitato territoriale a Scolipiceno Fermo